Sto arrivando, dopo primo aprile, dopo primo aprile, vado girando negozio e negozio e poi tutto parto, mi tirano una cosa di spicci, perché a me volete dire cittadinanza e non morano, allora mi vado a tirare fuoco, volete dire cittadinanza, avete capito buono o no? Sono stato vittimo di bullismo e pazze, saccate, ricchione, saurite, fammi capire, sono stato vittimo di bullismo e dal primo aprile mi vengo a prendere una cosa di spicci, per tutto parto, tutti i negozi, mi vengo a prendere una cosa di soldi per tutti i negozi e poi viene accorgito, mi ha denunciato, quale è il problema? Io vi denuncio per vittime di bullismo e pazze, seccate, ricchione, saurite, scemanute, fammi capire, sono stato tutti quanti, sono stato anche a casa del carabiniero, alla polizia, fammi capire, come sono, come sono, come sono pazze e così mi ho venito, come sono pazze, non me ne fotte proprio, come sono pazze, e mi vengo a prendere una cosa di spicci, per tutti i negozi, ma poi vi faccio vedere, il mio figlio ha la sigaretta a birra, mi ha pagato la voce, mi ha capito così i soldi, allora non ho capito, sono stato vittimo di bullismo a battivaglio, allora non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito proprio, allora non ho capito, mi ha portato il rispetto, innanzitutto mi ha portato il rispetto e poi mi darò una cosa di spicci e mi vengo a girare un negozio per negozio, a cazzino, non me ne fotte proprio, mi vengo a girare i pezzi in cuore, hai capito, no? Per mezzo a vostro, vuoi gente di merda, vuoi gente di merda, sai perché? Perché mi sono sputtaneato, fatica non la trovo perché mi sono sputtaneato, allora chi mi ha il curriculum, nessuno mi viene affaticato, eh, chi lo ha zucato, chi lo ha scimolato, chi lo ha pazzo, chi lo ha dicione, chi lo ha saporito, fammi capire, per mezzo a vostro, mi avete fatto questi uomini, e ora per mezzo a vostro, dal primo aprile, mi gioco tutti i negozi, ma pure per mezzo a vivere, vengo a prendere una così spicci, ma io devo tutto potere, vengo a vicino, non è che faccio così, la mano è così, eh, l'offerta, l'offerta, no? L'offerta è fatta questa, a mia madre è una così spicci, hai capito? No, no, perché la capra mi fa male, è così faccio, tanto ero mai più sputtaneato di quanto sono, che cazzo me ne fotte? E mi ha fatto 30, facemmo 31, che cazzo me ne fotte? Poi io ti chiami i carabini alla polizia, ti chiami a che cazzo volete pure, però poi parli, perché l'ho fatto.